ed eccoci a fuori salone alla galleria roberta e basta qua con il mio amico che mi ha fatto dono di questo bellissimo del taglio d'autore collezione del taglio d'autore 2021 perfetto guardate che bello super speciale bellissimo direttamente dalla sicilia ciao però vedi io ne voglio proprio simona tagli perché sennò la prossima volta ti dirò lì perché va bene bacino ciao promesso due secondi nipotini arrivano anche mirko brunetti svegliato brutalmente come i miei cani stamattina hanno svegliato me questo è vittorio questa ritizia pezzi ma mia la freschezza ciao cucciolo buongiorno ragazzi mi raccomando viene in sicilia sono cinque mesi che non piove saranno delle giornate stupende benissimo avvio avuto va bene nipotini come sempre vi tengo aggiornati su questa giornata siciliana iscrivetevi al canale se non l'avete ancora fatto lasciateci un like ciao